Secondo le norme internazionali che regolano la produzione dei farmaci generici, i farmaci generici, adesso uso questo termine per familiarità o equivalenti, sono sinonimi, devono avere per legge la stessa composizione quali quantitativa di principio attivo rispetto al farmaco originatore a cui fanno riferimento, quindi il principio attivo significa noi compriamo aspirina si può dire, principio attivo acido acetil salicilico, quindi un farmaco che volesse copiare aspirina deve avere lo stesso principio attivo acido acetil salicilico la stessa quantità, quindi se nel prodotto originale ci sono 500 mg la copia conterrà esattamente 500 mg, quindi la parte essenziale è mantenuta, poi ci possono essere differenze, per esempio la mia copia può contenere un aroma al limone per essere più piacevole al gusto e quindi ci possono essere differenze che sono negli eccipienti nella formulazione farmaceutica, ma quello che deve essere garantito da norme di legge internazionali, quindi anche che riguardano l'Italia, è che ci sia la stessa composizione qualitativa e quantitativa di principio attivo.